Ciao, mia anima bella, rilassati mi raccomando. Buongiorno di ecco hey ciao ciao mia anima bella ciao ciao benvenuta o bentornata in questo mio nuovo video rilassante per te spero tu stia bene io bene non c'è male e voglio essere qui con te stasera per rilassarti come cerco di fare tutte le volte e stasera vorrei rilassarti con una delicata rimozione dei pensieri negativi quindi quindi mettiti comoda 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 in una in una posizione per te ottimale per rilassarti e anche in una parte della casa che te lo consenta e iniziamo subito con l'accensione del palo santo per purificare un po' l'ambiente e togliere appunto tutte le negatività che ci circondano rilassati rilassati ti raccomando io ho già acceso la candela ti faccio sentire un po' il suono dallo stupino in legno dallo stupino in legno e accendiamo il palo santo per 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 Alla prossima Alla prossima Facciamo sprigionare tutti gli oli essenziali contenuti all'interno di questo bastoncino fantastico che io adoro come fragranza perché ha un olio balsamico al suo interno E' buonissimo Bene Mettiamolo qui E lui continuerà comunque a sprigionare queste sue proprietà benefiche E ci aiuterà nella rimozione di questi pensieri negativi Iniziamo con quelli più difficili da rimuovere Quelli più radicati all'interno della nostra mente E li prendiamo Ad uno ad uno Con tutta la mano Tiriamo E tiriamo E radici Con tutta la tua domanda Con tutta la mia査 E r nutritionare Esatto Bergere Con tutta la mia Sì, sì, sì. Sì, sì. Bene, adesso passiamo invece a quelli un po' più intermedi e andiamo a rimuoverli con un taglio netto. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 9 10 11 12 12 13 14 15 16 15 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 22 23 23 24 24 25 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 30 32 33 34 36 37 37 37 37 38 39 39 39 poff non ci resta che sigillare questa pulizia nuovamente con un altro po' di palosante lo riaccendiamo un altro po' ok e sigilliamo questa pulizia in questo modo lasciamo che rimanga tutto ben purificato per tutta la settimana non ci resta io ti auguro la buona notte buona notte buona notte buona notte sogni d'oro buona notte buona notte buona notte buona notte e sogni d'oro sogni d'oro sogni d'oro buona notte buona notte buona notte